In collaborazione con Mubarak, servizi di sgombero, trasporti nazionali ed internazionali e pulizia in genere. Non sempre le truffe su internet rimangono impunite. I carabinieri della stazione di Castelnuovo Don Bosco hanno rintracciato un giovane della provincia di Trapani che aveva fregato uno studente 19enne di Moncucco torinese. Il giovane si era presentato nella piccola stazione dei carabinieri per denunciare la truffa subita tramite il sito internet di annunci subito.it. Praticamente aveva concluso l'acquisto di un iPhone 4 al prezzo di 330 euro. aveva anche versato un acconto di 200 euro ma non aveva ricevuto il telefonino. Naturalmente il venditore si era iscritto al sito specializzato in compravendita. Sotto falso nome le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione della vera identità del truffatore. Si tratta di un 36enne residente a Gibellina in provincia di Trapani. E sempre su internet una farmacista a cinquantenne di Asti aveva conosciuto un 29enne disoccupato di Albane. Era nata una relazione ma dopo qualche mese a causa del carattere troppo possessivo dell'uomo la coppia si era divisa. Da qualche settimana il giovane albese ha tentato più volte di incontrare nuovamente la donna tempestandola di telefonate a tutte le ore del giorno e della notte e minacciandola anche pubblicamente. La farmacista allora ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per riacquistare la tranquillità perduta. Per il 29enne di Albe così scattata la denuncia alla magistratura in atti persecutori stalking. E per due importanti aziende metalmeccaniche astigiane si annuncia un'estate calda e con molti interrogativi. Alla Gate di Corso Alessandria che produce motorini elettrici per autovetture ed ha in organico 550 dipendenti a fine mese scatterà la mobilità per 18 lavoratori. L'azienda di proprietà della multinazionale cinese Johnson Electric negli ultimi 12 mesi ha già lasciato a casa 40 dipendenti ed attualmente ne ha 250 sotto contratto di solidarietà che scadrà il 31 agosto prossimo. L'altra azienda in difficoltà è la Vaya South, già fallita nel dicembre 2010, e ora è stata acquistata anche in questo caso da una multinazionale cinese. I dipendenti ancora in forza sono 130 ma sono in cassa integrazione fino al 21 giugno. Per quella data la Vaya South riaprirà i cancelli ma la nuova proprietà ha già annunciato di poter garantire il posto di lavoro solamente più ad una cinquantina di persone. Quindi per molti lavoratori scatterà anche in questo caso la mobilità. E questa mattina la delegazione di Asti della Federazione Italiana Gioco Calcio ha presentato l'annuario 2012 di tutta l'attività giovanile. Si tratta del quindicesimo anno che viene riproposta questa pubblicazione, 15 anni in cui molte cose sono cambiate. Questa è la testimonianza di tutti i cambiamenti, dei miglioramenti e anche dei peggioramenti, ma diciamo i cambiamenti di questa attività calcistica della nostra provincia. Come hai potuto vedere e come si può leggere attraverso le pagine dei libri, da 15 anni a questa parte si è evoluta proprio l'attività sportiva e l'attività calcistica. Le società sono diminuite, però paradossalmente sono aumentate quelle dell'attività giovanile. Difatti sono triplicate le squadre che svolgono attività presso tutti i bacini di utenza giovanile della provincia. Per me era importante passare oggi e portare il saluto perché il lavoro gratuito, sottolineo, dei volontari che si occupano di questo e delle famiglie, hanno permesso in questi 15 anni una crescita incredibile per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda il settore giovanile. E quindi la possibilità attraverso lo sport di fare squadre, di fare aggregazione e di fare anche educazione. Perché questo che in realtà i tanti allenatori, i tanti che si occupano attivamente di questo, stanno facendo. Per cui gli in bocca al lupo per la vivace e simpatica annata che si prospetta davanti e per la festa che ci aspetta del calcio giovanile. E per oggi, anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.